Sapeva governare la casa, prima di governare il paese governava la casa, c'era un'armonia totale nella casa tra la nonna, i figli, i dodici nipotini di cui io ero uno, non abbandonava la famiglia, anche nel massimo dell'impegno politico, ritornava a cena, si parlava poco di politica ma dei giochi dei bambini. E' questo uno dei ricordi che Roberto Einaudi conserva di suo nonno Luigi, il grande statista, uno dei padri della Repubblica di cui è stato il secondo presidente. A Bari per il convegno organizzato dal Partito Liberale Italiano in occasione dei 50 anni della sua morte, Roberto non dimentica uno degli insegnamenti di Luigi Einaudi. Aveva quest'idea che era molto importante avere i punti di partenza uguali o il più simile possibile. Una volta che uno partiva da un punto di partenza simile agli altri, allora era l'individuo, il valore dell'individuo e il suo lavoro, il suo impegno a far progredire se stesso e la società. Esponente di primo piano del pensiero liberale federale italiano, Einaudi esaltava con fermezza la libertà di iniziative e la capacità di autorealizzazione dei singoli individui. Proprio per questo motivo considerava la meritocrazia fattore fondamentale per lo sviluppo dell'economia di mercato, come sottolinea il coordinatore regionale per la Puglia del Partito Liberale Italiano, Giuseppe Carrieri. Noi speriamo che anche la manovra dell'ultima Salve Italia consenta appunto a chi è un po' più bravo di avere la possibilità in questo paese di farsi valere al di là di ogni altro qualsiasi discorso. La meritocrazia è un valore fondamentale che questo paese deve portare avanti.